Questo Natale lasciati ispirare da Rabarbaro, il nuovo capolavoro L'Erbolario. Una linea profumata, leggera e armoniosa, come un'opera scolpita nella natura. L'Erbolario Benvenuti ad Asset and the City dal cuore di Londra. Oggi il nostro gradito ospite è Andrea Boggio, County Head of Italy, Jupiter Asset Management. Benvenuto Andrea, grazie per aver raccolto il nostro invito. Grazie a lei, buonasera a tutti. Parliamo proprio di Jupiter, comunque si tratta veramente di una società tra le maggiori, nata nel 1985, quindi ha i suoi anni e naturalmente masse gestite molto importanti. Ci puoi dire qualcosa di più? Sicuramente, come diceva Jupiter Asset Management è la classica società inglese che nasce ormai tanti anni fa nel 1985, che da piccola boutique inglese diventa oggi una società decisamente internazionale con masse gestite alla fine di settembre del 2018 circa 53 miliardi di euro e che si rende veramente internazionale. In effetti Jupiter, specialmente negli ultimi cinque anni, ha proprio fatto quest'operazione di diventare veramente globale ed oggi è presente, direi, in tutta l'Europa, nel Latin America, in Asia, quindi in tutte le location più strategiche, poiché l'Inghilterra è un mercato maturo per Jupiter, ma il resto del mondo è dove Jupiter cresce. Benissimo, allora detto questo sentiamo anche quelli che sono tutti i dettagli e i numeri di Jupiter nel nostro servizio. Jupiter Asset Management è una società di gestione del risparmio internazionale fondata a Londra nel 1985 come boutique di investimento. È quotata alla Borsa di Londra e gestisce masse per un totale di oltre 53 miliardi di euro. La società offre una gamma diversificata di prodotti multi-asset azionari e reddito fisso con un focus esclusivo sulla gestione attiva e sulla performance degli investimenti nel medio-lungo periodo. Oltre alla gestione patrimoniale, Jupiter offre una varietà di portafogli azionari specializzati non solo nel mercato britannico, ma anche in quello europeo e in quello asiatico. Gli investitori al di fuori del Regno Unito possono accedere ad un'ampia offerta di prodotti di investimento tramite una SICAB domiciliata in Lussemburgo. La società mette a disposizione dei propri clienti anche fondi multi-manager e investimenti tematici specializzati, tra cui fondi a rendimento assoluto, fondi di investimento socialmente responsabili e fondi finanziari globali. La branch italiana di Jupiter Asset Management è stata inaugurata nel cuore di Milano nel giugno 2016 e conta oggi sette professionisti dedicati interamente all'Italia. Quindi Jupiter sbarca in Italia nel 2016, giovanissimo praticamente questo fondo nel nostro paese. Allora come si posiziona Jupiter? Qual è il vostro metodo di investimento Andrea? Ci sono due cose secondo me molto peculiari di Jupiter e interessanti. La prima, il fatto di essere un gestore solamente attivo. In questi ultimi anni è un dibattito molto interessante, attivo e passivo. Jupiter si schiera decisamente da una parte di questo dibattito, cioè il fatto che tutto quello che fa lo fa per ottenere rendimenti migliori del benchmark, quindi per fare una gestione veramente attiva. Non abbiamo nulla di passivo, non abbiamo ETF, non abbiamo gestione di questo tipo. In quale ottica è interessante vedere questo? Secondo me negli ultimi anni se tu gestisci per fare più o meno come il benchmark non hai quasi più ragione di chiedere commissioni elevate, perché ci sono prodotti che replicano appunto il benchmark costando molto meno. Quindi il nostro statement da questo punto di vista è fare molto meglio del benchmark oppure ovviamente fornire nel caso delle gestioni absolute return o total return un rendimento positivo in un arco temporale adeguato. L'altra cosa interessante e particolare di Jupiter è il fatto che non abbiamo la view della casa. Questo è particolarmente interessante per diversi motivi. Anzitutto perché mettendosi nell'ottica dei nostri gestori, dei fund manager, si sentono veramente liberi di fare il proprio lavoro. Io ho gestito soldi in passato, so benissimo che arrivare alla mattina al desk avendo un'idea, una buona idea di investimento magari studiata da lungo tempo e non poterla mettere in libertà, in pratica, perché magari il tuo comitato o il tuo chief investment officer la pensa diversamente, può essere una grossa pecca. Invece in Jupiter ogni gestore è totalmente libero di fare esattamente quello che pensa e questo si traduce ovviamente in ottime strategie e in libertà di pensiero che ci contraddistingue molto. Quindi, mi perdoni Andrea, voi puntate soprattutto sulla persona. Il vostro metodo è legato alla persona che poi guida comunque quel determinato settore, quella determinata classe. È proprio così. Le persone sono estremamente importanti. in Jupiter, per dirla in un modo simpatico, 21 gestori su 64 professionisti degli investimenti che abbiamo sono in Jupiter da più di 10 anni, quindi questo testimonia già il tipo di ambiente che si crea e poi i taxi che girano per Londra con il marchio Jupiter dicono più o meno la stessa cosa, dicono driven by human. Quindi questo è sicuramente emblematico. Qual è la vostra visione del mercato? Allora, avete una vera e propria visione comunque un pochino più generale? Allora, avendo premesso che non abbiamo una view della casa, diciamo, la cosa più interessante è magari interpretare quello che è il nostro miglior macroeconomista, che è il gestore del fondo Dynamic Bond, pensa in questo momento, che è un po' il gestore più conosciuto a livello europeo. Anzitutto ci lasciamo alle spalle un 2018 abbastanza particolare, difficile, cominciato bene con una piccola crisi però a febbraio e finito in maniera meno brillante e questo è già secondo noi, secondo Ariel Bezzarell, un'indicazione che sta cambiando regime, probabilmente siamo alla fine di un ciclo molto lungo, molto importante e guardando oltre, secondo questo tipo di ragionamento sarà molto importante guardare quello che la liquidità ci dirà, liquidità intesa come banche centrali che diventano in maniera abbastanza rapida net sellers di bond, quindi drenano liquidità in qualche modo al sistema e liquidità intesa anche come la liquidità degli investimenti sottostanti, quindi ci piace molto poco tutto quello che può diventare meno liquido e quindi essere un problema nei portafogli degli investitori. Siamo da questo punto di vista molto negativi sull'America, specialmente sulla parte a yield e siamo preoccupati che in quest'ottica che i rialzi che si sono succeduti e che probabilmente avverranno ancora della Fed possano in realtà avvicinare più che proporzionalmente il mondo ad una recessione. E qual è invece la vostra view, la vostra visione per quanto riguarda l'Europa anche alla luce delle decisioni della banca centrale ma anche quello che è comunque il quadro politico generale in questo momento? Chiaro, in un mondo così globalizzato e soprattutto dopo un ciclo così lungo probabilmente anche l'Europa non può gioire in questo momento, diciamo che con l'avvicinarsi della fine dell'espansione monetaria vedremo sempre in chiave monetaria appunto e la liquidità è la cosa più importante, vedremo come la nostra banca centrale saprà gestire un'eventuale fase di rallentamento, a seconda della propensione o meno ad essere ancora un pochino espansivi nonostante la fine di un lungo ciclo espansivo a sua volta capiremo quanto ottimisti potremmo essere sull'Europa, in ogni caso l'atteggiamento è sempre molto molto prudente. Certo anche perché in questo momento l'Europa come sappiamo è alle prese anche con il tema Brexit ovviamente uno dei temi molto molto caldi qui in Gran Bretagna, a questo proposito abbiamo raccolto alcune voci, alcuni commenti proprio delle persone che vivono e lavorano nella City di Londra, sentiamoli. Elio tu sei a Londra da circa sei anni, come ti trovi? Benissimo, Londra è incredibile, è un posto fantastico pieno di opportunità, ho avuto veramente delle grandi occasioni qui. Ecco, perché sei venuto? Ho lasciato l'Italia per un progetto che dovevo seguire, per un progetto riguardo l'IT e dopodiché ho trovato lavoro presso una grossa azienda, una multinazionale e continuo a lavorare qui. Sviluppiamo sistemi per la stampa. Elio ti trovi meglio qui che in Italia? Sì, incredibilmente, mi manca il meteo, mi manca il mare, però qui si vive meglio, le opportunità sono molteplici, cosa che in Italia non sarebbe possibile, qui ho avuto possibilità di esplorare il mondo, di avere contatti internazionali e di dare possibilità a quelle che erano le mie vere capacità, cosa che in Italia non era possibile, specialmente a sud. Quali sono le principali opportunità che hai trovato a Londra, che magari hai visto anche tra i tuoi amici e colleghi? Qui vince la meritocrazia, qui si ha il talento vali, hai la possibilità di crescere, hai la possibilità di cambiare lavoro, hai la possibilità di creare connessioni perché ci sono gruppi internazionali qui, ci sono incontri che si fanno durante la settimana o durante il fine settimana di comunità, di persone specialisti, meeting e poi ci sono mostre d'arte, c'è cultura, cosa che in Italia manca. Cosa è cambiato per te con la Brexit? Molto in realtà, dal punto di vista aziendale abbiamo perso parecchio, le vendite sono calate in modo sostanziale. Per quanto riguarda la vita si possono notare dei cambiamenti, veramente dai microscopici tipo l'aumento dei prodotti nel supermercato a un'area molto più tesa, ma la cosa principale è che c'è un sacco di confusione. Noi non sappiamo ancora quali diritti avremo, cosa succederà, che cosa succederà con l'economia, è un forse, molti amici stanno già prendendo la strada per il ritorno perché non considerano più l'Inghilterra un posto sicuro. L'indecisione politica è molta, adinfluisce. Quindi hai visto molti amici già andare via? Ne ho già visto qualcuno e stiamo già organizzando ognuno come si può, chi ritorna in Italia, in qualche altra destinazione. Io personalmente sto cercando nuove destinazioni, utilizzando i contatti raccolti durante tutto questo tempo per altre opportunità in altri paesi. La mia azienda ha due sedi in America, quindi stiamo valutando lo spostamento da quelle parti. Quindi stai considerando anche tu di lasciare l'onda? Sì, 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 assolutamente, perché comunque vada a finire con deal o no deal, l'impatto che si avrà sul prodotto interno nodo, sul GDP, sarà dal mio punto di vista veramente notevole. Quindi Londra non sarà più quel polo finanziario interessante come lo era prima. Ci sarà probabilmente un periodo di recessione, però comunque considerando la vita che si fa in centro Londra avrà degli effetti notevoli, delle ripercussioni su molti aspetti. Gli europei sono, dal mio punto di vista, necessari sia per le mansioni classiche, sia per il comparto finanziario e tecnologico. Quindi non sarà così polo di attrazione per l'eccellenza. Tu pensi di tornare in Italia un giorno? No, perché comunque la situazione politica italiana non sarà mai stabile. Indipendentemente dal partito politico, l'Italia ha dei problemi strutturali gravi all'interno, soprattutto negli italiani. Manca la cultura dell'inglese, manca la cultura, le conoscenze generali, non c'è un investimento per la tecnologia. Quindi no, in qualsiasi altra parte dove comunque la qualità della vita è più alta. Tranne l'Italia. Tranne l'Italia, mi spiace perché amo l'Italia, ma non è un paese vivibile, non è un paese che dà opportunità. Ti trovi bene? Nel senso ti senti ben accolta? C'è un bel ambiente? No, l'ambiente è molto bello, solo che con i cambiamenti che stanno succedendo ora vedo un'attima separazione tra gli italiani e gli inglesi o altre culture, quindi sono più con gli italiani, diciamo, invece di stare con gli inglesi. Ecco, hai visto una grossa differenza dopo il referendum sulla Brexit? Non tanto perché io sono una studente, quindi non lo vedo nel rapporto con i più adulti, però lo vedo più in classe con i miei compagni inglesi, sono molto più chiusi e già si stanno raccogliendo dicendo, ah sì, tu sei dell'Europa, anche se eravamo tutti parte dell'Europa, a meno che un annetto fa. Quindi mi sembra un po' strano come loro mi parlano verso di me, diciamo. Tu pensi di rimanere anche dopo la Brexit? No, penso di ritornare in Europa, quindi forse probabilmente in Italia. Il motivo è legato alla Brexit o legato al fatto che sei qui solamente per studiare puoi tornare? Un po' più tra tutte e due, anche la Brexit perché già il mondo di vivere qua si sta anche, sta diventando un po' più caro e allora preferisco tornare in Italia. Però hai visto una differenza nell'ultimo periodo? Sì, ultimamente sì, soprattutto con i miei compagni di scuola diciamo. Come ti trovi con i tuoi colleghi al lavoro? Buono, buono. La compagnia è molto culturale, quindi ci sono diverse culture, non è tutto inglese. Quindi mi trovo molto bene, molto accogliente. Ecco, abbiamo sentito i commenti di chi vive a Londra, ma chi opera invece a Londra, visto che voi siete comunque una società prevalentemente londinese, nata, quotata proprio, l'Hondon Stock Exchange, nata proprio nel cuore della capitale britannica. Ecco, come vi state posizionando, come state preparando la Brexit? Beh, la domanda fatta da un gestore inglese ovviamente ha un taglio particolare perché quello che possiamo decidere non è certamente di abbandonare Londra. Il nostro punto di vista è sicuramente quello della continuità. Quello che ci interessa in un contesto così incerto è il fatto che i nostri investitori, siano essi inglesi oppure internazionali in qualsiasi parte del mondo, non subiscano alcuna interruzione. Da punto di vista, diciamo, della fatalità siamo stati molto fortunati perché già da diversi anni abbiamo una SICA blussemburghese e quindi diciamo che serve tutti i nostri investitori internazionali, non quelli inglesi. Quindi questa è una fortuna perché nessuno fino al giugno del 2016 poteva prevedere Brexit e ci ha aiutato a non dover fare molto. Quindi la nostra ottica è quella semplicemente della continuità. In particolare in Lussemburgo siamo in fase di autorizzazione di una management company che ci aiuterà a continuare appunto il nostro percorso della gestione in Lussemburgo, ma questo si tratta di, come dire, un intervento abbastanza minimale. Quello che importa dire è che siamo preparati a qualsiasi tipo di scenario e questo è importante, quindi hard o soft Brexit per Jupiter dovrà essere poco importante perché, come dicevo, i nostri investitori dovranno avere continuità nella gestione. Bene, detto questo però naturalmente non possiamo non chiedere anche quella che è la vostra posizione sull'Italia, sul nostro Paese e naturalmente come vedete l'Italia in questo momento, lo chiedo proprio a lei che è country head of Italy. Certamente. Beh, anzitutto direi che nonostante tutti, come dire, quello che vediamo ogni giorno in tutti i mezzi di informazione, nonostante tutti i problemi macroeconomici e politici che l'Italia si porta dietro, dal mio punto di vista e per un investitore inglese, l'Italia è un Paese dalle grandi opportunità ancora adesso. Questo perché fondamentalmente al famoso debito pubblico, che è veramente grande in Italia, ne sentiamo parlare ogni giorno, si contrappone un risparmio privato veramente importante e questo ha permesso negli ultimi dieci anni il fiorire dell'industria dell'asset management e della distribuzione di fondi, che è quello che ovviamente ci riguarda da vicino e quindi il fatto stesso che Jupiter sia arrivata in Italia così tardi rispetto ad altri, testimonia proprio il fatto che c'è ancora possibilità di fare molto bene se si hanno delle buone idee. L'Italia sta cambiando molto dal punto di vista del risparmio, abbiamo delle banche per assurdo messe meglio rispetto al passato, che stanno consolidando il proprio bilancio, che si sono liberate di NPLs e quindi sono pronte ad affrontare gli scenari futuri, abbiamo un'industria dell'asset management abbastanza matura, perché sono tanti anni dopo il 2008 di continui incrementi, di masse gestite che aumentano. Adesso ci troviamo ad affrontare lo scenario della MIFID 2, che dal mio punto di vista non sarà uno stravolgimento come fu nel 2008 la MIFID 1, ma sarà un'opportunità di cambiamento, quindi di cambiamento lo vediamo già oggi, le banche ad esempio si tengono meno partner rispetto al passato, quindi per assurdo si stanno un po' chiudendo, che se vogliamo è il contrario di quello che magari il legislatore voleva vedere. Questo sicuramente. Esatto, però in questo cambiamento ci sono opportunità perché si tengono meno partner, ma quelli che gradiscono, quelli che gli servono veramente nel loro percorso nell'asset management, quindi vediamo cambiamenti in corso, come ad esempio vengono predilette di più le gestioni patrimoniali a scapito magari del collocamento diretto di fondi, vengono favorite soluzioni magari in wrapper assicurativi a scapito di altri tipi di collocamento e poi vediamo anche formule nuove magari a cui eravamo meno abituati, l'introduzione di gestioni in white label, quindi con veicoli che appartengono alle banche stesse ma che vengono gestite a qualcun altro, quindi ci sono sicuramente opportunità e la consulenza porta anche nuove opportunità perché lo stesso modo di approcciare i clienti a livello di retail e di private banking sta cambiando in qualche modo. Come ultimo commento, dal mio punto di vista lo spazio più interessante e più dinamico rimane nel mondo della distribuzione, quello del private banking e del well management perché lì vediamo i cambiamenti più grandi, gli investimenti più grandi ed è quindi probabilmente il posto dove le opportunità sono più visibili e più palpabili e tra l'altro è il posto dove la ricchezza vera rimane in un mondo che è sempre più diviso tra super ricchi e meno ambienti, quello è dal punto di vista pragmatico di chi fa il nostro lavoro il mondo più interessante. Ecco, detto questo, qual è il vostro outlook per il 2019? È un momento difficile, è un 2019 probabilmente all'insegna della rinnovata volatilità e questo si traduce naturalmente in idee che dobbiamo portare sul mercato diverse rispetto al passato, quindi secondo noi il 2019 potrà essere all'insegna della grande prudenza e l'Italia è decisamente il posto dove l'investitore è tradizionalmente abituato al fixed income, quindi anche quel mondo sta cambiando, essere prudente nel fixed income vuol dire probabilmente evitare rischi troppo elevati come può essere la yield, come possono essere i paesi emergenti in qualche modo, quindi l'idea è quella di in quel mondo affidarsi a buoni gestori, a chi sa muovere il portafoglio con prudenza ma anche con il dinamismo giusto perché in ogni caso non è semplice investire quando i rendimenti sono così bassi e poi è anche il momento probabilmente di pensare a strategie meno correlate con i mercati, quindi tutto quello che è absolute return del correlato rispetto alle principali, non so, borse mondiali o indicatori principali è interessante perché i rendimenti non arrivano più dalle asset class tradizionali ma stanno arrivando da strategie capaci di muoversi in maniera diversa come ad esempio il long short. Ecco, detto questo Andrea, le viaggia moltissimo tra l'Italia e Londra, Milano e Londra soprattutto, dove si trova meglio? Qual è la differenza che sente tra le due città? Beh, Londra continua a essere dal mio punto di vista il cuore finanziario, quando sono a Londra, quando spendo il mio tempo a Londra mi sento inserito in un ambiente decisamente più internazionale, globale e da dove arrivano ancora probabilmente le idee più innovative e dove si sente più trazione, però io in Italia mi trovo benissimo, quando lavoro a Milano mi sento veramente a casa e soprattutto c'è il piacere di poter fare nel mio paese d'origine un lavoro che mi piace tantissimo, quindi parlare di finanza e parlare con gli investitori, siano essi istituzionali o un fan buyers nel mio paese mi dà una grandissima soddisfazione, quindi in realtà mi sento diviso tra questi due poli, non saprei dire quale preferisco. E può farlo poi comunque per un gestore internazionale. Assolutamente, che è la cosa più. Sicuramente un plus. Bene, ringraziamo allora il nostro ospite Andrea Boggio, Country Head of Italy, Jupiter Asset Management. Grazie per essere stato con noi oggi e grazie a voi per aver seguito Asset in the City. Arrivederci. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattalistica, gestione e portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com